Ferre, è in particolare questo posto, dove siamo? Cioè, a me ricorda una cosa, Ferre È la casa di Hello Neighbor, davvero? Sì E ragazzi, come va? Io sono Ferre Niki E finalmente siamo tornati in questo gioco e siamo prontissimi ad affrontare i nuovi sogni che ci aspettano Esattamente, e si parte dal castello, quindi sono già pronto a qualcosa di particolare E qui ancora non abbiamo capito cosa ci potrà essere, quindi sono stracuriose e non vedo l'ora Io continuo a pensare a Raperonzolo, direi di no, Ferre Eh, direi proprio di no, allora, sembra proprio un castello medievale, secondo te Vabbè, allora, io non vorrei sembrare quello intelligente nella situazione, però qua c'è una X Lì c'è un trampolino, dobbiamo salire tutto su e buttarci, Ferre Ok, ma non penso che sarà così semplice Certo, 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 certo Non lo so, non lo so Allora, il tuo compito è trovare la statuetta, Ferre, quindi occhi aperti Perfetto Non ti perdere da nessuna parte e cercami la statuetta, perché comunque è gigantesco Uh, sì, è davvero grande È abbastanza difficile trovarla nel caso, aspetta, 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 aspetta No, ok Però aspetta, ecco Qui, 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 guarda, guarda, guarda Infatti dicevo, sicuramente ci servirà qualcosa Opla, 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 e siamo dentro il castello Ok, 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 bene Iniziamo subito con del parkour Perché siamo sempre felici di fare parkour E dove dobbiamo andare, non ne ho idea Però, per adesso, facciamo quello che ci chiede Ferre Eh Cioè, tata, mi sembra impossibile Esatto Eh, aspetta Allora, sinceramente, aspetta, aspetta, aspetta No, quello che ti volevo dire è che io non ho capito dove dobbiamo andare Perché questa scala la puoi raggiungere Ah, ce la fa a scalare, dicevo La potevi raggiungere anche camminando Però ok, è andata Ok, perfetto Dattuetta, sei qui? No, mi dispiace, ma non è qua Mi dispiace Peccato Almeno ho controllato E questa scatola l'hai notata, Ferre? Eh sì, è diversa dalla prima che abbiamo trovato La prendo per ora La posizioniamo Ci arrampichiamo Saliamo qui Ok È perfetto così Nuova parte è andata Le porte direi che sono tutte chiuse Quindi ormai ho capito che va così e non ci si può fare nulla Però piano piano stiamo andando sempre più in alto E ci stiamo sicuramente avvicinando al trampolino che abbiamo visto Quindi Certo Basta continuare ad andare avanti Eh, ma queste travi si possono spostare? Sì Eh sì Sì, e ne abbiamo una, due, tre Tre Ok, perché aspetta Mmm Dove dobbiamo andare? Ah, lì Salgo tutto qui Faccio il parkour qua Salgo qua Da qua Salgo qua Salgo qui Salgo qui Passo tutto il cornicione Salto Ne serve, secondo me, una in questo punto Oh, mamma mia Aspetta Dici? Sì, sì, sì Sto cercando di immaginarmi una strada mente È abbastanza complicato Sì, ho notato Sì, è abbastanza Dobbiamo costruire il parkour noi stavolta Così È molto strano Ok Però, secondo me, la terza non serve E il che mi sembra strano Però sei sicuro di poter passare sul cornicione? Dici, per sicurezza la metto lì? Secondo me, secondo me, non puoi fare quel salto Ok Quindi mettila almeno per sicurezza Per sicurezza la mettiamo Tanto nel caso poi non la uso Certo, questo non serve, non la usi Eh, non vedo nulla Un po' più in qua No, un po' più al centro, sì Vicino alla porta Secondo me proprio vicino alla porta Così? Opla Ok, andato, andato, andato Yes, yes E ce l'abbiamo fatta Bravi, bravi Dai, 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 dai Che bravissimi Allora, da qua non c'è nulla Qua non c'è nulla Questa è difficile da trovare È una statuetta con Dio Non trovo È difficile da trovare Ci sto rimanendo malissimo Dove dobbiamo andare, Fer? È in uno delle due parti Scala, scala E vediamo cosa c'è fuori Ok, allora probabilmente No, aspetta Ah, io pensavo ci fossero delle pochicine qua Invece no Aspetta Ok Fammi andare Sopra, sopra Oh, eh, vabbè Così? Eh sì, eh sì Eh, ma poi? Eh, percorrila Segui la strada Percorrila, sì E vediamo cosa c'è È l'unica soluzione Qui? Ecco, ecco No, vabbè Spettacolare Aspetta, dall'altro non c'è nulla, ok? Bellissimo, Fer Bello No, è sempre pieno di passaggi strani È fantastico Ok, andiamo, andiamo Ogni livello è sempre molto diverso Io questo l'apprezzo tanto È davvero fatto bene Accuciati, accuciati Eh sì Sinistra, destra? Eh, qui mi sembra chiuso Quindi vai qua Ok Però questa strada è davvero lunga È lunga, eh? Oh, mamma mia E ci sono anche posti dove girare? È un labirinto questo È un labirinto, Fer Oh, mamma Aspetta No, 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 no Questo è un bel problema, Fer Allora, lì Prova ad andare qua Questo è un bel problema Non lo so Facciamo sempre strade stravaganti Perché con i labirinti funziona così Fare ciò che non si aspetta Chi la crea, ha capito? Così Così Teoricamente ce la si fa Mmm Non so se abbiamo scelto il posto giusto Buongiorno Secondo me ci siamo, eh Anche secondo me Secondo me ci siamo Perché guarda un po' Saliamo di qui Sì, sì, sì Ed eccoci Mi sa che non abbiamo trovato la statuetta Eh no, dovevi guardare meglio nel labirinto Secondo me Controllare meglio sicuramente Se qua ti dico I consolini Vogliono che noi prendiamo quelle statuette Io lo so che loro le vogliono tutte Le vogliono collezionare Quindi ora torno indietro Non me ne frega nulla E vado a prendere quella donata statuetta Perché noi i consolini qua non li deludiamo Ok, Fere? Secondo me sei solo tu che vuoi la statuetta Non è vero Stai cercando di No, 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 no Ma non è colpa È una bella cosa È bello collezionare Ma ciao Ecco, no, era nel labirinto Opla E si continua a prenderle tutte queste statuette La collezione continua ad essere Tutta fatta Adesso andiamo a buttarci Dato che sarà una parte Esatto Decisamente divertente Geronimo Eccoci Allora abbiamo totalmente mancato la X Lo so Totalmente Però mi ha ricordato tantissimo il primo sogno Anche proprio il modo in cui cade Non è che è fatta apposta per qualche motivo Fere? Sinceramente non lo so Ok una tastiera Una tastiera Ci saranno i computer Un ufficio? Può essere Yes Hai ragione Ok 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 ho visto subito una cosa che mi interessa Perfetto Mi ha dato la cifra Mangia la ciambella Grazie Ero nato per farlo Assolutamente Allora porta chiusa Ok perché prima di tutto dobbiamo esplorare un po' la zona Per capire cos'altro c'è oltre le ciambelle Perché le ciambelle ci interessano Oh subito la statuetta Che dorme Che bellina Non l'avevo vista Scusa Ok questa era molto importante Porta chiusa Ok E questa è la prima È la porta di prima Sì Sì sembra tutto chiuso quindi Guarda un attimo il soffitto Sì Allora Ci sono questi Sì Quelli mi sembra che siano gli allarmi antincendio Ovvero che quando fai del fumo si allaga tutto Quindi dobbiamo puntare a far allogare l'ufficio Io volevo provare a spaccare un vetro per buttarci giù Però non mi sembra di poter fare Oh Fere Lo sai che non c'è così a caso questo vero? Credo di no Lo sai anche tu Dobbiamo attirare un topolino? Aspetta però Perché ci dovrebbe essere una finestra aperta Se non ci possiamo buttare Non lo so ma secondo me è troppo banale buttarsi Steph Secondo me dobbiamo iniziare a cercare qualche altro indizio Lo so però ci sono cose sospette in questa mappa Troppo banale questa volta Ci sono delle cose molto sospette Fere Oh mamma mia Ho combinato qualcosa di brutto mi sa Aspetta Eh te l'ho detto Sì li dobbiamo azionare Ridagli fuoco Però Si è spento subito Facciamo prendere fuoco Ok Ok Lo chiapiamo Lo teniamo qua all'angolino così magari non si spegne Non sono sicura Si sta lagando tutto Sì 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 Siamo morti affogati Yes Oh avevo ragione Non so come ho fatto a pensare una soluzione così stramba Però era giusta Perfetto È stato faticoso però Sì non era proprio intuitivo Trovare il punto dove non si spegne era difficile Dovevi un attimo reingegnarti e rifletterci parecchio Cos'è questa cosa? Fere Dimmi Lo so che c'è molta luce e non si capisce È un uovo Come un uovo? È un uovo così grande Può essere solo di una certa cosa Fere No Allora mi ricorda qualcosa tipo Jurassic Park Lo stavo per dire Perché sto facendo questa cosa? Come si chiamava? Anche se sembra un T-Rex normale No questo è un T-Rex normale Però la gabbia ricorda quella dell'Indominus Esatto Indominus Rex Indominus Rex Quello di Rossi Ward che abbiamo visto qualche giorno fa Allora Noi dobbiamo trovare un modo di arrivare da lui Ciao bello Ci puoi mordichiare un po'? No? Non ne voglia? Vabbè Arrabbiatissimo Troveremo un modo di farci morsicare Ok? Te lo promettiamo Beh ragione Prima o poi ci potrei mangiare Mi hanno dato una gabbia così piccola Anch'io sarei arrabbiato Hai ragione Hai ragione Ma che hai fatto proprio bello È bello Allora vediamo un pochettino Qua non possiamo fare nulla Tasti da premere a caso Ah Hai preso una staturetta? Nenche l'avevo vista Ok Bottone Ok Ok Aspetta Allora stiamo testando qualcosa dell'uovo Vedi? Tipo Ah Noi dobbiamo prendere questo uovo da qua Quindi aspetta Guarda Ok Oh no Lo fai arrabbiare con l'uovo Beh noi dobbiamo farlo arrabbiare Poi lo mettiamo qua Azioniamo E testiamo Quanto sopporta il calore Ok Ok Non è una buona cosa Guarda come ci sta fissando È arrabbiatissimo Sta pensando Molla il mio uovo Ok Allora Dopo che testiamo qua Lo testiamo nel microonde Ma no Steph No Sì Fere No Steph Sì 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 Fere fidati Steph lo romperemo Ok Il T-Rex si arrabbierà E ci sbranerà Te lo dico Adesso lo dobbiamo testare Invece con i fornelli Che cosa brutta Oh mio Dio Guarda come guarda l'uovo È arrabbiatissimo È arrabbiatissimo Ha ragione Eh scusaci Però il nostro obiettivo È farti arrabbiare Non è colpa nostra Adesso Dopo aver cucinato E l'avete Sarai arrabbiatissimo Guardagli la faccia Prendete il vostro uovo Prontissimo E lo mostrate A un T-Rex Che sicuramente Si arrabbirà tantissimo Ehi Ehi lo vedi Guarda Non gliene frega nulla No Ehi Guarda che abbiamo appena cotto Il tuo uovo Non te ne accorgi Forse lui vuole vedere L'uovo vuoto Magari sì Ehi guarda Eh sì Magari anche l'altro Ascolta Mettili tutto qua davanti È proprio rotto amico mio Così non può Non può confondersi È proprio rotto Come il tuo cervello A quanto pare Signore Niente Secondo me Allora sai cos'è successo? Ahah Nel momento in cui ha fatto la frittata L'abbiamo traumatizzato Dici? E rimane così a fissare il vuoto Non se lo aspettavo Guarda lo sguardo Allora Cioè non capisce più nulla Poverino Non sa più dov'è Cosa deve fare Ma che faccio Fede? Forse Non lo so Dobbiamo ulteriormente cucinare La nostra frittatina Vediamo Prova dai Vediamo Vediamo che succede Esce qualcosa di buono Lo so Lo spero Ok Ok ora si è arrabbiato Ok ora se ne è accorto Ma cioè Devo pure andare io da lui Eh sì Perché non ci passa Geronimo Te l'ho detto Che l'abbiamo traumatizzato Nel momento in cui ha realizzato Allora si è Si è arrabbiata tantissimo Povero dinotauro Però questa era una cattiveria Vabbè ma dai È un sogno Ma io pensavo ci buttassimo nella gabbia Non è che gli devi distruggere l'uovo Poverino È stato un po' triste No 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 Secondo me Un po' triste Finché è un sogno va bene Capita Alla fine ha fatto un brutto incubo a lui Ne abbiamo fatto uno brutto a noi E a rivederci Grazie Ferè Eh In particolare questo posto Dove siamo? Cioè A me ricorda Non dirmi che è quello che sto pensando A me ricorda una cosa Ferè È la casa di Hello Neighbor Sì Davvero? Sì Guarda Sì è molto simile Vero? Sì poi le sbarre Le finestre Mi sembrano abbastanza inconfondibili Quindi che dici? Dobbiamo far arrabbiare Ci sarà il vicino? Tipo che lo dobbiamo far arrabbiare Ci fa fuori Vicino Scusa buongiorno Buongiorno vicino Allora Vicino Vicino La statuetta prenditi nel frattempo Dov'è? Lì Ah Ehi L'avevo vista Allora Buttiamoli un po' Tipo le cose per terra Così lui teoricamente si arrabbia tantissimo Credo Io non so che dobbiamo fare Aspetta Per superare Ok Non mi sembra che stia succedendo qualcosa di particolare Questa ce la portiamo via Che è una bella palla Ok Vediamo qua Uh Un garage Oh mamma Questa mi piace Vero guarda qua Oh Chiave Bello Porta chiusa Apriamo la porta E andiamo di sotto Ok 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 Dobbiamo aggiustarli? Sì Ecco Con la chiave inglese Perché infatti ho notato che non c'è acqua in casa E secondo me E secondo me Tipo dobbiamo prendere la scosta Buttando un elettrodomestico Nella vasca O nella bandina Ok Allora Ci penso io Fede Guarda Sono l'intraulico Più famoso del 2017 Ci credo Vai a dirlo anche in giro Mi raccomando Ci credo Allora aggiustiamo Bravissimi Piano Piano Ok E una andata Poi Numero due Che poi potremmo mettere qualcosa qua per prendere la scossa No? Alla fine che cambia Eh in effetti In effetti Vabbè Vabbè Allora è perché l'elettrodomestico deve essere inserito alla corrente Però E qua non c'è corrente Qua non c'è corrente Uh Ma questa chiave è la stessa? L'hai buttata tu Steph Te l'avevo dubbio No l'hai buttata tu Come hai visto l'acqua e lanciato tutto Va bene Quindi non ti preoccupare Mi vuoi rendere ridicolo davanti a tutti Sì va bene Va bene Apriamo l'acqua qui Ok beh sì Ci buttiamo questa radio che ancora non abbiamo capito che serve? Sì Ciao No non funziona Ah sì sì La dovevi accendere Hai visto non solo serve a spegnere la musica del gioco ma anche Carino A farci finire un sogno Carino che ci ha fatto interagire così all'improvviso Allora vediamo cosa è la prossima cosa Uh Livello 13 Qualcosa che ha a che fare con un cantiere e dei lavori Interessante Continua sempre a cambiare tantissimo il posto E il tipo di sogno Bene Grazie a tutti Sì 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 Sì